Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono qua per illustrarvi queste promozioni di inizio anno 2014 su tutti gli strumenti, specialmente quelli ad indirizzo musicale, quindi flauto, violino, tromba, clarinetto, eccetera. Abbiamo cercato quest'anno, malgrado la crisi, di ribassare i prezzi il più possibile e volevamo comunque ricordarvi che in caso di acquisto cumulativo possiamo anche avere piccoli aggiustamenti ulteriori. Quindi se riusciti a organizzarvi in più persone per fare un acquisto cumulativo sicuramente riusciremo a trattarvi ancora meglio. Altra cosa importante che ci tengo a dirvi è che ogni strumento, come ad esempio un flauto, che necessita assolutamente di un controllo prima di essere spedito, verrà da noi proprio controllato, registrato a dovere prima di essere spedito. Questo per dare una sicurezza a voi che lo strumento arrivi nelle migliori condizioni per poter essere suonato. Stessa cosa vale ad esempio per gli strumenti a arco in cui controlliamo che il ponticello sia nella posizione giusta e controlliamo che non manchi niente come l'accessoristica tipo l'archetto, la pece e tutti gli accessori che vengono dati a corredo. Quindi su tutti gli strumenti a fiato faremo appunto questo setup di controllo da parte del nostro tecnico e stessa cosa appunto da parte del nostro rutaio per quello che concerne gli strumenti ad arco. Per qualsiasi informazione potete chiamarmi allo 051 39 94 09, potete chiedere della persona rispetto al reparto di cui avete bisogno e che vi potrà dare eventuali chiarimenti. Quindi buoni acquisti anche per questo anno scolastico. Ciao! Grazie!